Il 17 febbraio il CPP di Clusone e quello di San Giovanni Bianco sono stati scelti per rappresentare ABF presso la convention degli stati generali della formazione professionale lombarda. Lavorare per imparare è il messaggio con il quale esordito nel suo discorso Valentina Prea, assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro. ABF di Clusone insieme agli amici di San Giovanni Bianco ha realizzato un sistema integrato tra molinatura pietra e settacciamento del mais ottenuto a scuola con la collaborazione dell'associazione Grani Aste del Serio e con l'aiuto indispensabile di Andrea Messa per la selezione delle farine che sono state poi utilizzate per realizzare dei buonissimi biscotti. Sempre per il corso di operatore agricolo è stato inoltre presentato dal CPP di San Giovanni Bianco un metodo efficace per l'analisi ergonolettica della mela della Valle Brembana. Formazione professionale Ready to Work Grazie per la mia